salve amici e bentornati sul canale charlie oggi insieme andremo a fare l'unboxing del dispositivo contenuto all'interno di questa scatola che dovrebbe andare a sostituire il mio vecchio robot aspira lavapavimenti questo ormai ha circa cinque anni marca pro scenic devo dire che all'epoca era molto economico e soprattutto aveva già la mappa interattiva quindi un ottimo prodotto che però ultimamente sta perdendo un po i colpi andiamo a vedere subito cosa contiene la scatola scatola molto grande dall'etichetta leggo peso 15 kg ho deciso di acquistare questo robot aspira e lavapavimenti la marca legge direttamente dalla scatola ecovacs la serie e le botte con particolarità è il modello n8 plus vediamo cosa c'è dentro la scatola o le via altro scatolone e ve lo faccio vedere così eccolo qua come possiamo vedere è un robot aspirapolvere che anche la base per scaricare diciamo la polvere in automatico e la va a finire dentro un sacchetto allora via il sigillo di garanzia e continuiamo con l'unboxing questo è quello che troviamo all'interno della scatola come si presenta sicuramente è fatto molto bene perché è modulare abbiamo varie cose allora lo addrizziamo partiamo dalla prima qui immagino che ci sia all'interno mi troviamo anche il robot aspira pavimenti lava anche qui mi immagino di trovare gli accessori andiamo avanti e questa è la base di ricarica e come ho detto prima serve anche per svuotare in automatico l'immondizia che raccoglie dentro ha il sopratico sacchettino quello andremo a vedere sicuramente nei dettagli poi vedo anche le misure di tutto quanto quindi quante alta diciamo questa base allora passiamo subito ad aprire il robottino allora tutto ultra gommato quindi per attutire i costi sicuramente incartato e in scatolato veramente bene questo è il nostro robot via sono messo comodo perché anche insomma una certa età allora andiamo a togliere tutte quante le varie pellicoline che proteggono il nostro robot aspirapolvere allora vi faccio vedere qui abbiamo il primo fogliettino con le istruzioni per andare a montare le spazzoline sotto e per andare anche a scaricare l'applicazione ci dice pure come va posizionata la base di ricarica poi tanto andremo a vedere nei dettagli qui una cosa molto carina abbiamo vi faccio vedere vediamo se si riesce a vedere queste gommine che vanno tolte una e due questo è per farvi capire quanto è incartato e in scatolato bene che servono per andare a proteggere durante il trasporto la parte frontale che è quella appunto per parare i colpi tolto tutto ve lo faccio vedere molto brevemente poi intanto andremo a vederno nel dettaglio qui sotto abbiamo le due grandi ruote la torretta sopra molto importante questa andremo a capire anche il significato che abbiamo la vaschettina per andare a caricare l'acqua perché come ho detto questo robot aspira e lava contemporaneamente se vogliamo anche far rilavare il pavimento dovremmo andare a riempire questa vaschettina con l'acqua e poi andare ad attaccare l'apposito pannetto che vediamo subito nella scatola degli accessori eccola qui leviamo il sigillino ok l'apriamo ecco come si presenta sempre tutto devo dire ultra ordinato ve lo faccio vedere nella scatola abbiamo librettone delle istruzioni sicuramente da leggere pannetto come ho detto prima per far lavare il pavimento dal nostro robot questo è intercambiabile nel senso si può anche lavare poi andiamo avanti ottimo qui abbiamo un altro sacchettino per raccogliere l'immondizia da mettere dentro alla base di ricarica per alimentare la base di ricarica presa suco qui che cosa abbiamo queste sono 10 salviettine monouso quindi usegetta in sostituzione del pannetto interessante e qui invece abbiamo le due setoline una e due rosse e verde da applicare sotto al robot immagino che vanno applicate qui sotto qua verde e rosso diciamo che non ci possiamo sbagliare perché queste girando andranno a convogliare lo sporco all'interno della bocchetta allora visto che ci siamo verde con verde ha fatto clic e rosso con rosso più facile e semplice di così andiamo a vedere quanto è facile anche rimuovere la spazzola si premono le due linguette grigie ed ecco la spazzola abbiamo sia la parte con le setole che la parte in gomma quindi sicuramente abbiamo anche una maggiore pulizia andiamo a rimettere e il gioco è fatto semplicissimo e a questo punto direi di andare a vedere come si scarica l'applicazione e quali sono le operazioni preliminari insomma per metterlo in modo per vedere come funziona qui dunque andiamo a scaricare l'applicazione il quercode lo abbiamo qui quindi con il mio telefono vado a scansionare il quercode l'applicazione è compatibile sia per i telefoni apple che android eco max home install intanto che si scarica vi faccio vedere che qui abbiamo il tasto di accensione naturalmente per la prima configurazione il tasto dovrà essere acceso ma sicuramente anche per se vogliamo utilizzarlo dovrà sempre essere acceso se vogliamo utilizzarlo soprattutto da remoto e abbiamo una spazzolina per andare a pulire la vaschettina qui abbiamo anche un filtro intercambiabile e cosa molto importante queste due alette che adesso sono chiuse serviranno e anzi si apriranno quando la base andrà ad eseguire lo svuotamento automatico quindi rimettiamo qui così una e due intanto l'applicazione si è scaricata quindi apri ciao benvenuto regione italia lingua italiano perfetto accettiamo 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 naturalmente io non ho un account quindi devo fare una registrazione email quindi vado a fare completata perfetto ok la mia casa inserisci ora aggiunge coax allora mi dice di andare a scansionare il qr code che abbiamo sul nostro robot eccolo qui qui abbiamo il qr code da scansionare quindi facciamo consenti perfetto io abito anche la localizzazione ho capito quindi apri impostazioni bellissimo fa tutto da solo ok adesso devo impostare la mia rete wifi non ora andiamo avanti quindi dice apri il coperchio accendi possiamo vedere che allora adesso la spia del wifi che sta qui non so se si vede inizia a lampeggiare e anche fatto il rumore il suono quindi ho acceso il robot avanti ho sentito il suono avanti avanti hai premuto ovviamente il pulsante di reset no non l'ho premuto quindi se premi il pulsante reset per un secondo ho sentito il suono l'ho premuto connessione hotspot in corso connetti al robot quindi lui si stacca dalla mia rete wifi si va a collegare direttamente al robot dai un nome al robot come lo chiamiamo come lo chiamiamo il vecchio l'avevo chiamato popi sono fedele lo chiamo anche questo popi nome che mi piace avanti avanti allora abbiamo impostato la lingua italiana mi dice se voglio attivare la pulizia continua faccio avanti attiva non disturbare e andiamo avanti ok quando la mappa 2 è terminata la funzione avanzata con la posizione ok quindi adesso la prima cosa che deve fare il robot è fare un giro per casa in autonomia per andare a creare la mappa una volta che avrà creato la mappa a quel punto potremo andare a decidere noi se apre un mondo lo vediamo insieme adesso lo metto a terra e iniziamo a fare ricreare la mappa intanto ho alimentato la base di ricarica è bastato andare a collegare il cavo qui dietro la base è accesa ha un led di stato qui sopra il robottino partirà sempre da qui come stanza ho scelto il mio studio ho tolto tutte le cose che avevo in giro per casa con i scatole e scatoloni cose che potevano dargli fastidio lo posiziono sopra alla base dove lui tornerà e dall'applicazione adesso gli vado a dire di creare la mappa apri la porta naturalmente tutte le porte devono essere aperte lui dice appunto riordina anche in modo comunque di non lasciare cose in giro non va montato il pannettino sotto l'importante il pannettino per pulire non va montato vediamo inizio vediamo che succede potrebbe essere una posizione scomoda questa è per lui perché parte un pochettino da stretto ma così lo mettiamo anche subito alla prova mentre lui cammina naturalmente mi fa vedere dove sta fisicamente io lo posso sempre seguire dall'applicazione va bene lasciamo lavorare in santa pace e vediamo alla fine cosa succede resto lui sta facendo la mappatura di casa pulizia completata ritorno al doppio di ricarica ritorno al doppio di ricarica avvio della ricarica svuotamento della cassetta di raccolta e come abbiamo visto appena è terminato la pulizia in questo caso la mappatura di casa il robot è tornato subito alla base devo dire che è tornato molto velocemente ha trovato subito la strada giusta l'altro robot invece impiegava un pochettino di tempo a tornare alla base e non sempre riusciva a trovare la strada giusta ha impiegato un po di tempo invece a salire sulla base perché io un pochettino da infame non l'avevo messa bene vi faccio rivedere che qui è proprio scritto c'è lo schema su come va messa la base a terra io diciamo non avevo bene appoggiato il mobile quindi ha fatto un po di fatica ma alla fine è salito sulla base è andato in ricarica e anche svuotato l'immondizia che aveva raccolto durante diciamo la fase di mappatura adesso andiamo a vedere che cosa ci dice la mappa perché sicuramente dopo che fate la mappatura si sbloccano alcune funzioni quindi andiamo a vedere che cosa dice ed effettivamente hai sbloccato le nuove funzioni da un'occhiata innanzitutto qui ho la mappa appena fatta sopra ho 38 metri quadrati e la pulizia è eseguita per 43 minuti adesso è stata generata una nuova mappa appunto che è questa mappa qui che ci fa vedere se io vado a cliccare su ho capito mi dice che è stata creata la nuova mappa vado a salvare la mappa dal dischettino in alto dal flop disegno del flop disk mappa salvata adesso gli posso andare a cambiare il nome quindi leviamo mappa 1 e vado ad inserire casa ok perfetto adesso invece voglio tornare alla home allora il nome ok popi è online 35% lo stato della batteria naturalmente è da ricaricare apro pulizia intelligente e voglio un attimo rivedere la mappa con voi allora questo simbolo del fulmine mi indica dove sta la base di ricarica e praticamente tutta quest'area verde è tutta quanta un'area però ci sono stanze differenti perché lui è partito dallo studio è vero che ha trovato la porta aperta ha fatto un pezzetto di corridoio si è infilato di fronte al bagno poi ha fatto tutto il salone e tutta la cucina quindi sicuramente queste zone io le voglio andare a separare perché probabilmente in cucina dovrà passare più volte la cosa bella di questo robot è che comunque possiamo anche andare a decidere quante volte deve passare in una zona e se vogliamo lavare anche il grado di pulizia quindi il grado di lavaggio quindi quanta acqua lui deve impiegare per pulire quella certa zona nella parte d possiamo vedere questo è il tappeto quindi lui l'ha riconosciuto come tappeto adesso andiamo a vedere come si separano le aree quindi le stanze perché come abbiamo visto tutta la zona verde per lui è un'unica area io voglio andare a separare apri pulizia intelligente mappa clicchiamo sulla mappa modifica aree sotto abbiamo visto che c'è anche la possibilità di mettere la barriera virtuale io voglio fare un bel dividi aree come si divide un'area te lo dice praticamente seleziona l'area che desigui di video e tocca lo strumento di visione per modificare e trascina la linea ho capito vediamo se ho capito allora prima area da dividere perché comunque la prima area che va divisa è lo studio quindi dov'è la base di ricarica quindi questa dividi area ci mettiamo qua è carino mi piace sembra un giochino quindi ci mettiamo qui e facciamo dividi area perfetto quindi lo studio è diventata area A andiamo avanti dividi area allora io a questo punto voglio dividere la cucina quindi mi metto 1 questa è tutta quanta la cucina e mi ha diviso l'area creando F quindi è rimasto tutto quanto il salone il corridoio tutte queste zone tratteggiate sono i tappeti possiamo vedere che anche in cucina qui c'è una zona tratteggiata zona F si può ingrandire perché qui c'è un tappeto quindi la tratteggiata anche qui bene questa è un'altra cosa che vi voglio far vedere comunque l'applicazione è veramente semplice da usare ed è molto intuitiva se torno indietro quindi torniamo indietro vi faccio vedere invece se voglio invece mettere una barriera virtuale perché è utile la barriera virtuale dopo aver creato una barriera virtuale vi darà automaticamente l'area quindi se io dico in quell'area tu non ci devi pulire perché effettivamente magari ho messo degli scatoloni ho mucchiato un po' di cose quindi questo giorno non ci devi pulire come glielo dico carina diciamo la cosa che lui ti spiega tutto come funziona ho capito quindi se io volessi mettere una barriera virtuale per dire sul tappeto gli dico tu il tappeto non me lo fare basta andare ad applicare la barriera virtuale premere ok completa vedete l'attività ok quindi la barriera virtuale è messa andiamo avanti allora preferenza di pulizia ti posso anche andare a vedere quante volte passare in una zona e che tipo di potenza se standard è bassa media o massima potenza o come ho detto prima anche il livello d'acqua quindi se basso medio alto o mare quindi il segno o mare quindi mi fa pensare che dove sta lo straccetto o che il pannino sia molto bagnato allora andiamo avanti aria qui mi fa vedere le aree la sequenza di pulizia molto importante io posso anche andare a scegliere quale area deve pulire per primo quindi anche questa secondo me è molto interessante poi faccio salva e andrò a salvare quello che ho fatto allora andiamo qui modalità avanzata questa funzione abilitata può usare ok questa area per appunto abilitare tutte le altre funzionalità andiamo avanti aspirazione con incremento automatico perfetto qui il robot andrà ad aumentare la potenza quando riconosce che c'è il tappeto quindi quando sta pulendo un tappeto lui in automatico aumenta la potenza quindi anche questa impostazione è importante svuotamento automatico immagino che già era attivo ok lo lascio così di default programma pulizia appunto dobbiamo andare se vogliamo andare a decidere se la pulizia deve essere automatica oppure dobbiamo dire che deve pulire una determinata area una determinata zona poi andiamo avanti non disturbare l'ho attivata prima programma pulizia ok rimposta mappa attuale no altro registro di pulizia mi fa vedere quello che abbiamo visto prima 39 metri quadrati una pulizia sola qua durata 46 minuti utilizzo gli accessori anche questa cosa è molto carina perché lui ci andrà a dire quando è ora di cambiare la spazzola e ci avviserà anche con una notifica quindi questa cosa pure la trovo molto interessante andiamo avanti report verbale italiano questo non ci interessa rinomi al robot niente quindi ok adesso andiamo a vedere le altre caratteristiche allora tempo di ricarica della batteria da 0 circa 4 ore riesce a pulire diciamo nella modalità automatica fino a 200 metri quadrati per 110 minuti quindi diciamo la batteria secondo me è molto importante c'è una batteria molto potente questa torretta che abbiamo qui sopra ha fatto la mappatura della casa grazie al laser anche grazie ai sensori che ha qui davanti e sotto abbiamo anche i sensori anti caduta quindi se lo utilizziamo per dire in una casa dove ci sono le scale senza una porta lui comunque non cadrà di sotto ma riconosce che c'è il vuoto quindi tornerà indietro poi vediamo cosa c'è altro da dire molto importante è compatibile con gli assistenti intelligenti google e alexa e naturalmente si può caricare anche su home assistant poi quello che semmo lo vedremo direttamente in un altro video la stazione di ricarica è alta circa 47 centimetri il robot è alto 11 centimetri totale per il momento termino qui perché ancora non l'ho utilizzato questo era solo un video di unboxing e vi volevo far vedere come funzionava l'applicazione lo testerò in questi giorni se avete domande o curiosità come sempre lasciatele nei commenti a presto al prossimo video Flavio